La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte del motociclista cingalese coinvolto giovedì scorso In un tamponamento invia Tommaseo all'incrocio con la rotatoria di Viale Codalunga Indagato per omicidio stradale l'autista della Dacia Sandero, un 61enne trevigiano L'uomo prima di colpire gli scooter avrebbe avuto un malore? Su questo indaga la polizia locale Lo straniero è deceduto dopo il ricovero in terapia intensiva dove era arrivato in condizioni disperate La vittima era in sella al suo scooter quando insieme ad un altro motociclista È stato violentemente tamponato da un'auto che arrivava da via Tommaseo I due motociclisti che si erano fermati in attesa di affrontare la rotatoria Sempre molto trafficata Sono stati sbalzati con violenza contro una Range Rover Il 56enne cingalese ha avuto la peggio e ha riportato forti traumi Il secondo motociclista invece ha riportato ferite più lievi Stiamo nella pagina della cronaca perché un giovane è stato inseguito in bici nelle vie del centro Poi è arrestato, aveva della droga con sé Ha tentato di darsi alla fuga in sella alla bici Quando ha visto i poliziotti in Piazza delle Erbe In seguito il 27enne di origine tunisine Si è fermato spingendo la bici contro gli agenti della questura Tentando di continuare la sua fuga a piedi verso Piazza della Frutta E lanciando in un cestino dell'immondizia un involucro di celofan Durante l'inseguimento un ciclista ha avvicinato i poliziotti E ha offerto loro la sua bicicletta permettendo agli agenti di rintracciare il fuggitivo Durante gli accertamenti sono stati trovati un bilancino di precisione E un involucro contenente cocaina in aggiunta a quella lanciata All'interno del cestino dell'immondizia che conteneva altre 12 dosi Primo di documenti il giovane con precedenti per reati inerenti agli stupefacenti Risultato irregolare sul territorio nazionale È stato arrestato per detenzione a fini di spaccio E nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione Ancora cronaca perché stavano girando in provincia di Padova La ricerca di ferro vecchio da rivendere Due persone, una donna di 25 anni e ragazzi di 18 anni Sono finiti nei guai mentre stavano trasportando un carico di circa una tonnellata di materiale ferroso Senza avere alcun titolo per svolgere questo tipo di trasporto I due originari di Vercelli sono stati sorpresi a Sant'Ele nella Vassa Padovana Da una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Este Dopo tutti gli accertamenti sono stati denunciati il materiale Sequestrato e invece un altro automobilista fermato Senza la patente ha cercato di corrompere la polizia Prima finge di aver dimenticato la patente a casa Poi cerca di corrompere gli agenti della polizia Che lo avevano fermato per un controllo Guai per uno straniero residente a Padova Che nei giorni scorsi era stato fermato da una pattuglia della polizia di Rovigo Per accertamenti L'uomo, sprovvisto dei documenti di guida Ha abbozzato delle scuse pur di non vedersi contestata una multa Vista la poca presa sugli agenti Ha cercato di convincermi offrendo loro due banconotte da 50 euro Aggiungendo anche prendetevi un caffè Gli agenti hanno chiaramente rifiutato E l'uomo ha lanciato i soldi sul cruscotto della volante E' stato quindi arrestato per istigazione alla corruzione E posto agli arresti domiciliari Ricorderete qualche tempo fa l'incidente sulla Statale del Santo Ha costato la vita a un giovane Donate le corne di Giordano Sanginiti C'è qualcuno nel mondo che adesso vede attraverso le corne di Joe Che bella cosa, qualcosa di vivo è di lui E' ancora qui Queste le commosse parole di Elena Pasco La madre di Giordano Sanginiti Il 21enne morto in un incidente stradale Lungo la regionale 308 del Santo Lo scorso 4 febbraio Apprendendo che la donazione delle corne del figlio E' andata a buon fine Nei giorni scorsi la comunicazione e i ringraziamenti Della Banca degli Occhi e della Regione Veneto Ai familiari del 21enne Dopo l'incidente infatti I genitori avevano scelto di donare gli organi del figlio Sono arrivati anche i ringraziamenti Del coordinatore regionale per i trapianti della Regione Veneto Il dottor Giuseppe Feltrin Che a nome di tutto il personale del coordinamento trapianti Dell'azienda ospedaliera di Padova E del sistema regionale trapianti Ha tenuto a esprimere alla famiglia Gratitudine e rispetto per la generosità e la solidarietà Dimostrate con l'atto della donazione dei tessuti di Giordano Le indagini sulla morte del giovane sono ancora in corso E la procura padovana ha aperto un fascicolo per omicidio stradale Indagando due funzionari di Veneto Strade L'ente gestore della strada Si è inoltre in attesa del risultato dell'incidente probatorio Per stabilire dinamica e cause dell'incidente Non è cronaca questa? Cronaca sportiva Perché gli arbitri hanno deciso che non arbitreranno più alcune partite Vediamo quali La misura è colma Non arbitreremo le gare dello storico torneo di calcio notturno di Vigonovo Questa la dichiarazione shock degli arbitri della sezione AIA di Padova Dopo quanto accaduto durante la partita di terza categoria Vigonovo-Unione domenica scorsa Un giocatore del Vigonovo ha preso a schiaffi l'arbitro dopo essere stato ammonito Dura la sanzione nei confronti del calciatore che è stato squalificato per cinque anni E la società multata Un episodio che ha scatenato l'ira dell'associazione arbitri di Padova Che con un comunicato annuncia anche che la sezione padovana Non fornirà più direttori di gara per le partite del Vigonovo-Tombelle Amareggiato il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò Inaccettabile quello che è successo nei confronti di alcuni arbitri In particolare alcuni casi in situazioni di periferia Con giovani arbitri che veramente hanno avuto dei seri problemi anche in termini fisici Non posso capire che onestamente la soluzione è quella di non andare ad arbitrare una certa squadra A una determinata partita perché se non lo fanno loro chi lo fa? Cioè di fatto uno viene autodelegittimato E questo in qualche modo è se volete dare soddisfazioni a quei soggetti Che non solo come atteggiamento ma anche culturalmente Pensano che possono fare come credono Per il presidente veneto del Comitato Olimpico Nazionale Dino Ponchio Bisogna tornare ai valori che lo sport propone Educando fin da piccoli gli atleti Nel calcio per fortuna, purtroppo, decidete voi Ci sono i tifosi Se ci fossero sportivi solo invece che tifosi forse andremo bene Ma questo afferisce alla cultura sportiva del paese Se non miglioriamo la cultura sportiva del paese avremo questi episodi E come la miglioriamo? Torniamo all'inizio, all'attività motoria nella scuola primaria Perché fare sport diventi uno stile di vita E non guardare la televisione o andare a battere le mani A urlare contro qualcuno negli stadi Cambiamo decisamente argomento Torniamo in centro a Padova Torniamo a parlare del cavalcavia Borgomagno E di tutte le polemiche che stanno sorgendo attorno a questo progetto A questi lavori e a quello che ha deciso di fare il municipio Per noi c'è sul posto Francesco Ratai che ci racconta come sta andando Buongiorno da Padova Siamo davanti alla sede del quartiere Arcella Con me è Leonora Mosco, consigliere comunale della Lega E capogruppo in consiglio comunale E l'eurodeputata Paola Ghidoni Perché siamo qua? Perché la Lega ha deciso di far partire una raccolta firme Per la questione della chiusura del cavalcavia Borgomagno In direzione Padova-Arcella Come sta andando la raccolta firme? Quali sono i vostri obiettivi? La raccolta firme è iniziata questa mattina Sta dando un ottimo riscontro Tantissimi sono i cittadini che oggi sono venuti Sin dalle prime ore per sottoscrivere una raccolta firme Che è una raccolta firme di buon senso In tanti, tantissimi riteniamo che la chiusura del cavalcavia Borgomagno Sia una scelta assolutamente insensata Priva di fondamento Che vada contro le esigenze dei padovani Non solo degli arcellani Ma non è tollerabile che un cavalcavia venga chiuso Senza nessun tipo di spiegazione Con una scelta calata dall'alto E che invece i cittadini vogliono assolutamente ripresinare Noi ancora una volta saremo a loro accanto Insieme alla raccolta firme che stanno facendo i bravissimi commercianti Ci uniamo anche noi Insieme anche al lavoro delle associazioni di categoria Una voce unica per chiedere con grande fermezza La riapertura del cavalcavia Borgomagno La giunta di Palazzo Moroni dice Il cavalcavia è chiuso perché è a rischio crollo Voi non siete convinti di questa giustificazione? Guardi, noi abbiamo sentito fare tantissime promesse in campagna elettorale E dopo la campagna elettorale Tantissime scuse per giustificare le mancate promesse Noi pensiamo che serva responsabilità e serietà Quando si prendono le decisioni Che ricadono sulla vita dei cittadini Attendiamo a gran voce che Giordani e Ragona Vengono con le carte E ci spieghino le vere ragioni Dietro a questa scelta Insensata e controproducente Per i padovani Prego, prego No, quindi noi chiediamo assolutamente Che vengono a riferire in consiglio Senza campare scuse Ma con delle motivazioni fondate Onorevole Ghidoni Quello che voi lamentate Principalmente anche la mancata concertazione Con chi sul territorio lavora e ci vive Ma assolutamente sì Non è stata fatta nessun tipo di concertazione Ricordo tra l'altro Che durante il seppur breve periodo Del sindaco Massimo Bitonci Il sindaco frequentava il quartiere E veniva costantemente A sentire la voce dei cittadini Di questo quartiere Che è un quartiere bellissimo Era un quartiere vivacissimo Pieno di negozi Io parlo più da cittadina Che da politico Perché è un quartiere che ho sempre frequentato moltissimo E ho visto l'evoluzione negativa Che ha avuto in me nel tempo I negozi Quelli che caratterizzavano questo luogo Via via hanno chiuso All'inizio per la questione del tram Perché sono saltati tutti i parcheggi La possibilità di parcheggiare E quindi le attività commerciali Hanno in buona parte chiuso Sostituite da attività commerciali di altro tipo Che hanno poi portato A un degrado di questo quartiere A un degrado totale E quindi questa misura Non fa altro che portare ulteriore degrado Perché isola un quartiere Che invece ripeto Era un quartiere bellissimo E vivacissimo Bene Grazie all'onorevole Ghidoni E alla consigliera Mosco Io restituisco la linea Da Padova Ringraziamo Francesco Rattà E le sue ospite Naturalmente torneremo a parlare Di questo tema così importante Così vivace per la città Nelle prossime edizioni Della nostra informazione Adesso però cambiamo Ancora argomento Parliamo delle novità Che arriveranno del primo maggio Nella gestione Di quella che Insomma forse Non è più un'emergenza Covid L'obbligo di utilizzo Delle mascherine Resta nei reparti Con pazienti fragili Addio al dispositivo Invece negli spazi comuni Come bar, mense Sale di stazionamento Questo è il senso Dell'ordinanza Del ministro della salute Orazio Schillacci Valida a partire Dal primo maggio Per pazienti Personale e visitatori Resta quindi La prescrizione Nelle aree Ad alta intensità di cura Dove sono presenti I soggetti anziani E immunodepressi A identificarle Saranno le stesse Direzioni sanitarie Che avranno ampi spazi Di manovra Anche nell'individuare Le zone mascherina free Prevale la massima cautela Poi negli hospice Nei centri riabilitativi E nelle case di riposo Credo sia giusto Proprio perché È una disposizione Che diventa faticosa Lo vedo anche nel mio ospedale La gente entra Negli spazi Dove appunto Il rischio è minimo O comunque molto simile A quello Della vita comune E quindi Significa far Perdere il valore Dell'uso della mascherina Sicuramente fondamentale Nell'RSA Per gli operatori Per i visitatori Perché lì appunto Ci sono E ci saranno I nostri nonni Un po' a volte Purtroppo acciaccati Piena discrezionalità Avranno i medici di base I pediatri Nei loro studi E sale d'attesa Quanto ai tamponi Per l'accesso Al pronto soccorso Anche qui la decisione Spetta agli ospedali Quindi direzioni sanitarie E autorità regionali Esentati dall'obbligo Di mascherina Bimbi sotto i sei anni E persone con disabilità E difficoltà comunicative Se l'ordinanza ministeriale Faccia chiarezza o meno Lo diranno Le prossime ore Intanto Il presidente della regione Fissa Un principio generale Bisognerà comunque Fare ancora attenzione Nel senso che È fondamentale capire Comunque le infezioni Finito il covid Sono sempre Uno degli elementi Che ci preoccupa di più Anche perché La sfida in sanità Saranno le infezioni ospedalieri E L'antibiotico resistenza Quindi queste saranno Le due grandi sfide Per il futuro Dalla salute al lavoro A pochi giorni Dal primo maggio Il PD lancia Una campagna Sulla sicurezza Nel primo trimestre Del 2023 In Veneto I morti sul posto di lavoro Sono stati 12 E sono aumentati Del 33% Rispetto allo scorso anno La nostra regione Secondo solo la Lombardia Nel triste podio Per il maggior numero Di morti bianche Dal 2017 In Veneto Infatti hanno perso la vita 674 lavoratori Aumentano anche le denunce Di infortuni E le malattie professionali Numeri drammatici Per una regione Da sempre Considerata locomotiva D'Italia Il PD Veneto In occasione Della giornata mondiale Della sicurezza sul lavoro In vista del primo maggio Ha presentato così Una campagna Per affrontare Questa emergenza nazionale Che tocca profondamente Anche la nostra regione Al primo posto del decalogo L'incremento Del personale Spisal Bisogna aumentare i controlli Avere più personale Degli spisal Quindi la regione Deve procedere Con le assunzioni Che finora non ha fatto Bisogna rendere La prevenzione Più efficace Aumentare la formazione Fare in modo Che il lavoro Sia più sicuro Anche perché È fondato Su diritti Migliori Per i lavoratori Dal caporalato Nelle campagne rodigine Allo sfruttamento Nei cantieri navali E la piaga del lavoro nero Tra le dieci proposte Del PD Veneto centrale È anche il tema Della vigilanza E dei controlli Nei cantieri Misure di contrasto Alla precarietà E l'attenzione Alla formazione Dei lavoratori E dei datori di lavoro C'è il grande tema Della connessione Purtroppo Tristemente forte Tra le infortuni Sul lavoro E il tema Dello sfruttamento Dell'illegalità E del subappalto E quelli devono essere I luoghi in cui La vigilanza Viene aumentata La seconda parola D'ordine È prevenzione Perché ovviamente La sicurezza sul lavoro Appunto non può essere Un vessillo Che si sventola Quando c'è la tragedia Ma deve essere Un processo costruito Giorno dopo giorno Passo dopo passo E lo si può fare Attraverso appunto Un'azione di prevenzione Che si fondi Sulla formazione Primo maggio Festa dei lavoratori Primo maggio Anche però Occasione turistica Importante Vediamo come sta andando A Padova Siamo contentissimi È partito un po' lento Il ponte del 25 Ma si è Completamente Ripreso Quindi siamo Molto contenti E anche per il primo maggio Direi che l'occupazione È ottima C'è soddisfazione Tra gli albergatori Padovani Per il weekend Del primo maggio Le prenotazioni Registrano il tutto esaurito Un crescendo Da Pasqua Fino ad oggi Che ha visto Sempre più turisti Prenotare una stanza All'ombra del Santo Merito anche Del marketing Del territorio Che è stato fatto Non ultimo Il riconoscimento Dei cicli pittorici Del 300 Come patrimonio Unesco Che ha portato Un valore in più Per scoprire la città E il territorio Che la circonda Diciamo che è stata fatta Un'ottima campagna pubblicitaria Padova è Finalmente Ha cominciato Finalmente A farsi conoscere Non solo in Italia Ma anche Oltre Quindi all'estero Chi viene Torna Perché scopre Una città Che non si aspettava Quindi con delle Bellissime cose Da visitare La cultura Tutto il comparto Dei colli L'enogastronomia Quindi diciamo Che Le vie d'acqua Diciamo che non ci manca Assolutamente niente Dobbiamo solo Continuare A farla conoscere A pubblicizzarla E ad attirare I turisti Dal turismo Passiamo allo sport Sono più di 10 milioni di euro I finanziamenti erogati Al CONI Padovano Dalla fondazione Cariparo Negli ultimi 10 anni Soldi Di cui hanno beneficiato Più di 1400 Società sportive Del territorio Una sinergia Che prosegue Anche quest'anno Con investimenti Per la formazione Dei giovanissimi atleti Ogni anno Vedevamo i buoni risultati Degli anni precedenti E questo ci ha stimolato A proseguire Adesso abbiamo Non soltanto Il programma tradizionale Di sostegno all'attività Con il bando sportivamente Sostegno alle attrezzature L'intervento immobiliare Con il bando Working Sport L'abbiamo aperto Anche a corsi di internet Per dirigenti Atleti Abbiamo aiutato A impostare Programmi di efficienza Energetica Insomma Vogliamo rendere Il mondo dello sport Sempre più diffuso E sempre più sostenibile Ci è stato sempre Di buona compagnia In questo percorso Il CONI provinciale Il CONI nazionale Allora esprimiamo Piena gratitudine Per il sostegno tecnico E anche etico Che ci hanno dato Un modello da imitare L'ha definito Il presidente nazionale Del CONI Giovanni Malagò Gli investimenti Fatti sullo sport A qualsiasi livello In particolare Con questi ultimi progetti Hanno oggettivamente Un tasso Di grandissimo ritorno Sotto ogni punto di vista Non ultimo Quello sociale E dalle scuole elementari Bisogna ripartire Per formare La cultura Dello sport Nell'ambito di questo progetto Finanzieremo Praticamente Tutte le società sportive Che fanno attività Organica Cioè Con un rapporto scritto Con una specie di convenzione Con gli istituti scolastici E portano lo sport Nelle scuole elementari Suppliamo Allo Stato Che dice 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 Da quando ho cominciato A insegnare io Che fa l'attività motoria La scuola primaria Invece non l'ha fatto ancora L'hanno portata Nelle quinte Solo nelle quinte E neanche tutte Sport e tempo libero Vanno a braccetto Vediamo qualche proposta In arrivo a Vigonza Il 6 maggio Abbiamo E qui la festa Il castello dei Dapperaga Che è una bellissima location Di Vigonza Un castello Immerso nel verde Tutta la comunità Si riverserà lì Abbiamo tutti i ragazzi Delle scuole È una festa per loro Con un ricco programma Che parte dalla mattina E culmina la sera Con questo evento Che è la battaglia Dei cuscini E quindi andremo Dalle 9 e mezza Da mattina Fino alle 18 di sera La bella stagione Porta a Vigonza Una serie di iniziative La volontà Dell'amministrazione comunale È proprio quella Di fare comunità Tra i cittadini Ma gli appuntamenti Nel comune Vigontino Non si fermano Certo a maggio Per tutta l'estate Ci saranno iniziative Dal gastronomico Al culturale Per far conoscere Il comune Alle porte di Padova Avremo un altro evento Il 13-14 maggio In piazza Ci sarà uno street festival E poi altri eventi In programma Un ricco programma Proprio per promuovere Il nostro territorio Soprattutto chiamare Gente da fuori Vigonza A Vigonza Per farla conoscere Questa era l'ultima notizia Del nostro telegiornale Vi ringraziamo Per essere stati con noi Vi auguriamo Buon pomeriggio